Oggi parliamo di acqua pubblica, quello che spera il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo. Siamo in compagnia del Presidente Comitato Acqua Pubblica di Arezzo, Gianfranco Morini. Vogliamo commentare questo movimento, queste iniziative a livello nazionale da parte del governo per ritornare alla pubblicizzazione dell'acqua. Quello che è successo ieri a Montesitorio mi sembra un passo molto importante. Certamente noi consideriamo questo un passaggio che era stato richiesto anche al Presidente della Camera FICO quando siamo stati a Roma il 30 luglio, che si potesse dare una velocizzazione alla discussione in merito al disegno di legge che era stato presentato anche nella legislatura precedente, ma in quella attuale ci aspettiamo che riesca a essere fatto prima della fine dell'anno almeno in una delle due Camere. Il prossimo passaggio secondo lei, Morini, quali sarà? Il prossimo passaggio sarà quello della discussione in Commissione Ambiente, dove devo dire che registriamo già dei piccoli tentennamenti da parte della Lega rispetto al testo così come è stato depositato dal Movimento 5 Stelle, da Aga e altri 130 firmatari del Movimento 5 Stelle. Ovviamente in questo governo c'è un patto di governo in cui è previsto proprio la ripubblicizzazione, quindi noi confidiamo che il Movimento 5 Stelle da parte sua ritenga di non dover concedere, diciamo di non mollare qualcosa di significativo perlomeno di questo disegno di legge.